Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il racconto è nato così, anzitutto il racconto della passione e poi a poco a poco è stato aggiunto, è stato redatto il resto del Vangelo. Con una espressione che è diventata famosa nel 1892 un pastore protestante tedesco, Martin Keller, diceva che il Vangelo è il racconto della passione con una lunga introduzione. E in effetti c'è del vero in questo. Perché? Perché ci si rende conto come tutto il racconto di Marco punti verso questo momento. Cerchiamo di vedere proprio in modo molto molto succinto qualcosa. Già al capitolo terzo, nel versetto 6, si diceva di una condanna a morte di Gesù. I farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro lui per farlo morire. E' la prima volta che nel racconto di Marco compare questo termine morte, questa decisione di farlo morire. E poi questa decisione, che qui non ha nessuna attuazione, non ha nessuna conseguenza, viene ribadita, viene ribadita in particolare in quelli che sono i tre preannunzi della passione. Gesù, nel racconto di Marco, per ben tre volte, a capitolo 8, al capitolo 9, al capitolo 10, preannunzia ai discepoli la sua passione. Il preannunzio si fa sempre più preciso. Leggo semplicemente quello del capitolo 10, quando appunto dice Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli iscrivi. Lo consegneranno a morte, lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno, lo uccideranno e dopo tre giorni risorgerà. Capite che questo preannunzio sembra essere una specie di indice del racconto della passione. E sempre più procedendo, lo scontro si fa duro con quelli che sono i suoi avversari. Al punto che, nel momento in cui Gesù scaccia i mercanti del Tempio, in 11-18 si dice Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli iscrivi e cercavano il modo di farlo morire. Ecco, questa decisione a questo punto prende corpo, diciamo si attua. E concretamente diventa questa decisione proprio di uccidere Gesù, di prenderlo, quindi di riuscire ad arrestarlo e poi di condannarlo. Allora, questa idea è della morte, questa percezione che qui siamo di fronte a un momento fondamentale percorre tutto il Vangelo, dall'inizio in fondo. La stessa vicenda di Giovanni il Battista può essere letta in questo modo, come un'anticipazione della morte di Gesù. Proprio ai primissimi versetti, 1-14, si dice che Giovanni fu arrestato. E poi al capitolo 6 si racconta la sua fine per mano di Erode. Il Battista, appunto, precede addirittura nella morte, arrestato e poi ucciso. E tuttavia, dicevo, se questo è un aspetto che dunque fa sì che questo momento centrale, culminante, apicale della morte di Gesù, della passione, sia davvero fondamentale per comprendere il Vangelo, la cosa fondamentale nel leggere la passione è non farsi ingabbiare dall'idea che qui siamo di fronte a una cronaca. Perché questo è rischiosissimo. Cioè che qui l'Evangelista ci voglia semplicemente raccontare dei fatti, quasi con precisione oraria. Infatti, se noi guardiamo, qui si fa molto preciso. So, 14-1, mancavano due giorni alla Pasqua. E poi, versetto 12, il giorno, il primo giorno degli azimi. E poi, versetto 17, venuta la sera. E poi, nuovamente, addirittura, nel capitolo 15, si fa ancora più preciso, addirittura precisando le ore. Allora, questa precisione, quasi oraria, non deve far pensare che qui siamo di fronte appunto a una cronaca di quanto è avvenuto. Perché? Perché l'Evangelista intende annunciare la novità del mistero di Gesù, certamente crocifisso, proprio attraverso il racconto. Ricordate che, la prima volta dicevo, questa è la genialità di Marco. Marco è il primo che annuncia raccontando. Che annuncia il mistero di Gesù. Che annuncia, appunto, il mistero di Gesù e che propone al lettore di credere in questo mistero, raccontando quanto è avvenuto, quello che Gesù ha fatto, quello che Gesù ha detto. Quindi, non possiamo semplicemente fermarci, appunto, alla cronaca, ma dobbiamo andare un po' dietro, cercando di comprendere che cosa queste pagine ci rivelano di Gesù, del mistero di Dio. Ora, anzitutto, il racconto inizia con un sandwich. Abbiamo visto che questa modalità narrativa è molto amata da Marco. Marco inizia un racconto, poi lo interrompe, ne inserisce un secondo, e poi termina il racconto che ha iniziato e interrotto. Siamo a 14, da 1 a 11, dove scrive Gesù si trovava a Betagna nella casa di Simone il Lebroso. «Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri, ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse, «Lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto». Allora Giudea Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. vedete che qui siamo di fronte a una cornice, versetti 1, 2 e 10, 11, molto fosca, direi proprio estremamente buia, e ha un quadro, i versetti da 3 a 9, molto luminoso. Da una parte la ricerca per uccidere, dall'altra parte il gesto simbolico, certamente della donna anonima, che, come abbiamo ascoltato, compie questo gesto di spezzare il vaso di alabastro e di versare tutto il profumo sul capo di Gesù. Ora, naturalmente, c'è un nesso fra queste due scene. E il nesso è legato al tema del denaro. Perché? Si parla di soldi, 300 denari, si parla appunto del denaro che viene promesso a Giudea Iscariota. Ora, colui che, abbiamo visto, almeno il capitolo primo, colui che era cercato, per esempio dai quattro, Simone e gli altri, ma di fatto, in certo senso, trovato, ma non incastrato, ma non imprigionato, Gesù, ricordate il capitolo primo, diceva andiamocene altrove, non voleva rimanere nelle grinfie dei discepoli che lo volevano riportare a Cafarno dicendo tutti ti cercano, nel momento in cui è cercato per essere ucciso, verrà trovato. Questo è appunto un po' il mistero, che se prima Gesù, in certo senso, si libera da questa ricerca che vuole mettere le mani su di lui, questa volta invece no. Questa volta si consegna. Si consegna perché qui siamo di fronte ormai al momento culminante per cui Gesù è venuto, appunto realizzare quel progetto di Dio che passa misteriosamente attraverso la croce. E allora comprendiamo che la passione, ecco qui una prima chiave fondamentale, vede due piani. Il piano, potremmo dire, degli avvenimenti, allora sì, le ore, i giorni, addirittura la precisione appunto a proposito oraria. E d'altra parte però, insieme a questo piano di avvenimenti intrecciati, dove ciascuno fa la sua parte, abbiamo in realtà un livello diverso che è il progetto di Dio, il piano di Dio, che si realizza misteriosamente attraverso la morte di Gesù. Un tema per esempio molto interessante è quello delle consegne. Sembra appunto che Gesù diventi un oggetto che viene tradito da Giuda, consegnato ai sommi sacerdoti e poi consegnato a Pilato e alla fine crocifisso. Appunto un oggetto che ci si consegna, che ci si passa. In realtà questo verbo è paradidomi, in latino è traditur, è tradire, consegnare, è la stessa cosa. In realtà se Gesù è tradito, è consegnato, in realtà Lui consegna a se stesso. Non solo, ma consegna l'Eucaristia, consegna a se stesso al Padre, consegna lo Spirito. e in questa consegna c'è la consegna del Padre il quale appunto consegna il Figlio, dona il Figlio. Vedete, è un gioco di specchi, come questa sala, le finestre fanno da specchio, dove appunto ciascuno fa la sua parte, ma dove ciascuno è convinto che ormai sta vincendo, sta facendo qualcosa di definitivo, finalmente hanno messo le mani su Gesù. In realtà la regia è di Dio, che attraverso il mistero della croce sta compiendo la salvezza dell'umanità in questo modo. Ora, qui la contrapposizione è legata, dicevo, a questa scena iniziale e finale dei Sommi Sacerdoti e di Giuda, che appunto cercano di consegnare, di prendere, di catturare Gesù, e la scena è invece nel quadro, che è quella di questa donna anonima, come tutte le donne che abbiamo incontrato finora, in Marco, che compie un gesto indubbiamente simbolico. Ora, notate alcuni particolari. Primo, un vaso di alabastro. Certamente non si tratta di un vaso ordinario. Anche il profumo poteva essere messo benissimo in un'ampolla di vetro. E invece questo è un vaso di alabastro, quindi di una grande preziosità. E lo dì, poi, non solo, ma c'è un profumo di puro nardo. E io, ancora una volta, non ricordo, sapete che Giovedì Santo c'è la Messa Crismale in Duomo, a Milano, e, ad un certo punto, l'arcivescovo mette il nardo, una caraffa di nardo, nell'olio, che poi servirà come crisma sia per i battesimi, l'unzione appunto del crisma, sia per la cresima. E in quell'anno, forse io ero seminarista, serviva una cosa così, ricordo ancora la zaffata di questo profumo fantastico, veramente straordinario, che si è liberata nel momento in cui l'arcivescovo ha versato il nardo dentro l'olio. E è davvero una cosa straordinaria, non sono mai entrato in una profumeria in vita mia, ci tengo a sottolinearlo, però quella volta ebbe proprio, come dire, l'incanto di questo profumo delizioso, molto molto raffinato, molto fine. Ecco, questa donna ha un profumo di nardo di grande valore. Ora, voi donne mi insegnate, nessuno spezza un vaso e mette tutto il profumo, se ne mette un po'. Questa non vuole profumare, perché profumo basta appunto metterne un pochino, e invece questa lo mette tutto. E lo spezzare, il rompere il vaso, è un gesto definitivo, irrimediabile, non si può più aggiustare un vaso rotto, si deve buttarlo, non è che si può incollarlo o cucirlo. Quindi, questo gesto ha un valore appunto simbolico, che, in certo senso, anticipa il gesto che compierà Gesù. Il suo corpo sarà appunto un vaso spezzato, il suo corpo crocifisso sarà questo vaso e il profumo che si spargerà, che cosa sarà? Sarà esattamente la salvezza. Ora, di questo gesto vengono date due letture. La prima è puramente economica. Dicendo il valore, 300 denari. Ora, il denaro era lo stipendio di un giorno, questo è lo stipendio di un anno. Un anno intero di lavoro che viene messo in quel profumo e che viene appunto spezzato sul capo di Gesù. Quindi un valore immenso. E questi si lamentano e appunto dicendo a proposito dei poveri. Gesù invece dà un'altra interpretazione. E l'altra interpretazione è il punto del versetto 9 quando dice in verità io vi dico dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Cioè il Vangelo che cos'è? La proclamazione è la appunto l'abbiamo visto la prima sera è la proclamazione pubblica di una notizia che porta gioia. Se nel mondo intero si ricorderà quanto questa donna ha fatto significa che Gesù sta affrontando la passione ma non avrà bisogno dell'unzione perché? Perché sarà risurto. E quindi attraverso questo segno si anticipa di fatto la risurrezione si annunzierà il Vangelo raccontando questo cioè annunziando la morte e risurrezione di Gesù e si ricorderà anche quello che questa donna ha fatto in anticipo rispetto alla sepoltura perché? Perché quando si e vedremo poi quando si andrà a ungere quel corpo quel corpo non si troverà più il Signore è risorto. Quindi vedete qui si anticipa nel senso simbolico tutta in fondo la passione la morte e la risurrezione. Ora bisogna ricordare anche un altro fatto che nella settimana di Pasqua qui si dice che mancavano due giorni era obbligatorio diciamo era molto consigliato per i Pi ebrei compiere un'azione di bene e questa azione poteva essere fatta sia nei confronti di un vivo come nei confronti di un defunto e il defunto era evidentemente un'offerta fatta al Tempio una cosa del genere questo gesto viene letto così come un'azione fatta nei confronti di un defunto anche se Gesù è ancora vivo e appunto Gesù stesso precisa vedete in anticipo per la sepoltura e il gesto nei confronti del defunto era ritenuto più meritorio rispetto al gesto nei confronti del vivo proprio perché è totalmente gratuito ecco Gesù legge in questo senso quindi quasi rileggendo la usanza ebraica nei suoi confronti ma accennando alla sua resurrezione già anticipando quella vittoria sulla morte che sarà il cuore dell'annuncio evangelico dove si annuncia il Vangelo si annuncia che Gesù è morto ed è risorto è morto ma ha vinto la morte nella sua resurrezione il secondo testo che vorrei brevemente così commentare è l'istituzione dell'eucaristia 22 25 però spegnete questo riscaldamento perché scusate non ne posso più nel senso che mi lascio giù grazie qui dietro c'è una specie di grazie no non voglio che qualcuno ha freddo ma avendolo nelle spalle veramente è insopportabile mentre mangiavano prese il pane e recitò la benedizione lo spezzò e lo diede loro dicendo prendete questo è il mio corpo poi prese un calice e rese grazie lo diede loro e ne bevvero tutti e disse loro questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti in verità io vi dico che non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio questi testi diciamo questo testo della cosiddetta istituzione è molto complesso nel senso che chiederebbe appunto una lunga introduzione perché perché oggi sempre più si riconoscono in questi testi dei testi liturgici cioè la tradizione liturgica della Chiesa ora diciamo così non questo testo non va non ha da essere compreso a partire dalla cena ebraica perché primo perché noi sappiamo poco anzi quasi niente di come avveniva la cena ebraica ai tempi di Gesù la documentazione di nostro possesso è molto tarda e quindi diciamo dal punto di vista metodologico è perlomeno azzardato prendere una documentazione medioevale e retrodattarla ai tempi di Gesù questo è scorretto lo fanno in molti ma sbagliano allora in questo senso bisogna essere molto fini molto attenti addirittura io ricordo una lezione università ebraica in cui qualcuno sosteneva esattamente il contrario e cioè che l'attuale aggada cioè il rito diciamo ebraico prende da lì dall'eucaristia incredibile cioè il capovolgimento totale della questione ma lasciamo perdere in ogni caso quindi noi non sappiamo precisamente com'era certamente qui c'è una un gesto di Gesù con una parola e prende il pane prende il calice e il riferimento è anzitutto a se stesso il pane e poi vedete il sangue dell'alleanza allora che cosa ricorda questa espressione del sangue dell'alleanza ricorda il sangue che Mosè ha usato per sancire l'alleanza fra Dio e il popolo nel capitolo 24 dell'Esodo ora questo gesto fa riferimento a una usanza davvero antichissima che è quella di concludere un patto un affare anche fra due persone attraverso questo gesto per esempio se io non so cedo vendo 100 pecore e d'altra parte quello mi dà non so 10 cammelli nel momento in cui concludiamo questo affare questo contratto ecco che i due contraenti visto che naturalmente si impegnano non so che le pecore siano sane eccetera eccetera i due contraenti compiono un gesto di questo genere alzano la mano entrambi e mentre scannano un piccolo capretto o una pecora dicono una forma di automaledizione cioè succeda a me quello che succede a questo animale se non sono fedele alla parola che ti sto dando e poi naturalmente consumano insieme l'animale che è stato ucciso questa formula era un modo per dire io mi impegno al punto che dico che se imbroglio ci rimetto la vita capite è un modo per indire la solennità del giuramento della parola data appunto capiti a me quello che capita a questo animale se non è se dico il falso se non sono fedele a quello che dico all'impegno che ho preso ora che cosa succede lì nel capitolo 24 dell'esodo Mosè compie questo gesto prende dei capretti delle pecore li sgozza il sangue viene messo dentro dei catini metà del sangue viene messo sull'altare che è simbolo di Dio con l'altra metà si asperge il popolo capite che l'idea è questa Dio e il popolo sono uniti da un giuramento Dio ha dato concretamente ha fatto vedere al popolo la sua potenza tirandolo fuori dall'Egitto accompagnandolo nel cammino il popolo si impegna ad essere fedele all'alleanza cioè alle dieci parole che Dio ha dato alle tavole dell'alleanza il suggello di questo patto è nel sangue quasi a dire Dio e il popolo si impegnano a dire sono fedeli a questo patto siamo fedeli a questo patto allora qui si riprende questa immagine ma qual è la differenza che il sangue qui è quello di Gesù cioè Gesù anticipa nel segno del pane e del vino il senso della propria morte quella morte sulla croce non sarà un incidente di percorso di un bravo fortunato profeta che insomma ha predicato ha parlato ha compiuto miracoli ma ad un certo punto è incappato come dire nelle persone sbagliate non sarà un incidente ma al contrario sarà dono della vita sarà obbedienza alla volontà del padre quindi potremmo dire questa idea è appunto qui nella cena Gesù anticipa il senso della sua morte e comandando i discepoli e altre tradizioni di fare altrettanto capite che mostra come potremmo dire ogni volta che noi celebriamo l'eucaristia torniamo non alla cena ma alla croce ma alla croce non è che noi facciamo l'ultima cena ma in quel spezzare il pane in quel bere al calice ritorniamo al dono che Gesù ha fatto sulla croce cioè alla Pasqua alla morte e alla resurrezione come il punto culminante centrale appunto della storia della salvezza dell'esperienza potremmo dire umana qui siamo al centro potremmo dire l'eucaristia non la si capisce partendo dal banchetto dal mangiare insieme ma partendo dalla croce perché è da lì che viene il suo senso ripeto Gesù anticipa il senso della sua morte e naturalmente il fatto che lo anticipi è fondamentale perché mostra ai discepoli di avere consapevolezza di stare per morire di andare a morire e di scegliere questo non perché vuol fare l'eroe ma perché si sottopone appunto alla volontà di Dio che addirittura chiede questo vorrei leggere anche il brano del Gezzemani 14 32 e seguenti giunsero a un podere chiamato Gezzemani ed egli disse ai suoi discepoli sedetevi qui mentre io prego prese con sé Pietro Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia disse loro la mia anima è triste fino alla morte restate qui e vegliate poi andato un poco innanzi cadde a terra e pregava che se fosse possibile passasse via da lui quell'ora e diceva Abba padre tutto è possibile a te allontana da me questo calice però non ciò che voglio io ma ciò che vuoi tu poi venne e li trovò addormentati e disse a Pietro Simone dormi non sei riuscito a vegliare un'ora sola vegliate e pregate per non entrare in tentazione lo spirito è pronto ma la carne è debole si allontano di nuovo e pregò dicendo le stesse parole ora questa scena del Gezzemani vedete trova i discepoli che dormono questo sonno qui è un sonno non legato alla stanchezza ma è legato alla tristezza diverso cioè ha una dimensione insopportabile e quindi l'uomo quasi viene meno si spegne si addormenta non resiste Gesù che cosa vive? nel Gezzemani potremmo dire non vive semplicemente il combattimento interiore fra la propria volontà e la volontà del Padre questo sicuramente e al punto che Marco notate è l'unico ci custodisce la parola aramaica che Gesù ha utilizzato cioè Gesù mentre prega dice Abba e questa parola l'abbiamo anche insomma è ripetuta da Paolo in Romani 8 in Galati 4 quasi a dire una parola aramaica che è entrata poi nella preghiera dei primi cristiani i primi cristiani pregavano in greco sostanzialmente però quella parola l'han tenuta perché era proprio il modo in cui Gesù si rivolgeva a Dio anche noi ancora oggi usiamo delle parole aramaiche Amen Alleluia Osanna magari non lo sappiamo nemmeno ma comunque sono parole che vengono dall'ebraico dall'aramaico e la parola Abba era entrata al punto che Paolo che scrive in greco per comunità che parlano greco utilizza questi termini ora la parola Abba era la parola che era il modo il vezzeggiativo con cui il bambino piccolo si rivolgeva al padre proprio il bambino piccolo che appena ha iniziato a parlare che si muove ancora goffamente e così via quindi il bambino piccolo si rivolgeva al padre chiamandolo così Abba e era il modo in cui il figlio al capezzale del genitore si rivolgeva al padre vedete gli estremi bambino piccolo figlio ormai adulto di fronte al padre che sta morendo in questi due contesti era usata la parola Abba solitamente poi invece si diceva Av padre si dice così allora questa parola vedete dice una estrema confidenza potremmo dire un affidamento una davvero una intimità anche notevole profonda ebbene Gesù utilizza questa parola per rivolgersi a Dio e qui comprendiamo una cosa che colui appunto Gesù che vive questo momento non smette di rivolgersi a Dio proprio così chiamandolo Abba ma dicevo non c'è semplicemente la differenza fra la volontà sua e la volontà del padre ma il mistero del Gezzemani è che Gesù entra in comunione con il peccato e in questo senso un'anticipazione della croce cioè Gesù in questo momento sperimenta qualcosa che non conosce ovvero sia la comunione col peccato cioè l'assenza di Dio che cos'è il peccato il peccato è la non fede è appunto una scelta contro Dio è escludere Dio dalla vita ebbene qui siamo di fronte al figlio al figlio che è sempre in comunione col padre ma che nel Gezzemani e poi sulla croce entra entra in questa separazione una separazione che a Gesù deve essere pesata tantissimo perché perché sente davvero la distanza totale e la comunione con quel peccato che non conosce se non per negazione nel 1999 l'ufficio praticamente del come si chiama del liturgico del sommo pontefice Giovanni Paolo II chiese al poeta Mario Luzzi di scrivere praticamente la via Crucis per il Colosseo e il grande poeta disse che non se la sentì di dire subito di sì ci pensò un po' di giorni ma lui stesso in una intervista disse che appena questi monsignori insomma che erano andati a fare la proposta lasciarono la sua casa fiorentina immediatamente iniziò a così a pensare a macchinare questa idea che si poteva scrivere una via Crucis in cui Gesù era l'unico personaggio e dove lui viveva questo dramma proprio della comunione col peccato è un testo bellissimo l'hanno fatto in Duomo anche a Milano un paio di volte quest'anno l'anno scorso del 17 e anche nel 16 se potete recuperarlo leggetelo perché se lì aggiungete una parola vi assicuro è l'eresia se ne togliete una distruggete il poema e il grande poeta pensò proprio questo dialogo di Gesù con se stesso una specie di monologo un vero e proprio monologo interiore dove tutto è legato a questa cosa che Gesù entra poco a poco in comunione col peccato di tutta l'umanità e sente il peso immenso di questa distanza da Dio e perché fa questo lo fa per amore l'amore per l'umanità lo conduce a condividere non solo la carne Gesù si è fatto uomo e quindi si stancava come noi dormiva come noi mangiava come noi eccetera eccetera ma addirittura a condividere ciò che non conosce cioè il rifiuto di Dio attenzione non nel senso che Gesù abbia peccato chiaramente no questo è ovvio che no ma nel senso che entra in questa condizione e ci rimane questo è il grande mistero del Gezzemani questo è il grande mistero della croce che però direbbero i padri è il principio della salvezza perché colui che condivide addirittura il rifiuto di Dio da parte dell'uomo permette all'uomo di aprirsi nuovamente a Dio i padri dicevano ciò che non è condiviso ciò che non è assunto non è sanato Gesù assume anche questo e per questo ci salva ora l'episodio della morte e dobbiamo correre perché qui il tempo vola è praticamente raccontato nel capitolo 15 33 39 quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio vedete la scansione oraria qui si parla dell'ora nona alle tre Gesù gridò a gran voce Eloi Eloi le Massabachtani che significa Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato udendo questo alcuni dei presenti dicevano ecco chiama Elia uno corse a inzuppare di aceto una spugna la fissò ad una canna e gli dava da bere dicendo aspettate vediamo se viene Elia a farlo scendere ma Gesù dando un forte grido spirò il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo il centurione che si trovava di fronte a lui avendolo visto spirare in quel modo disse davvero quest'uomo era figlio di Dio allora l'episodio della morte qui proprio alcuni tocchi molto brevi è diciamo sintetico rispetto a quanto Marco ha detto fino adesso e si intrecciano qui come dire tre grandi fili che trovano qui il loro nodo il primo è proprio legato alla morte e Gesù abbiamo visto già da tre sera si era deciso di farlo morire e poi abbiamo percorso così brevemente un po' rapsodicamente i passi essenziali e qui si giunge al culmine la morte secondo filo è quello del tempio abbiamo visto che dal capitolo 11 il tempio domina la scena di Marco Gesù entra nel tempio fa l'ingresso a Gerusalemme nel tempio e poi di fatto da quel tempio non esce più e quindi il tempio domina con la sua solennità anche con la sua maestosità ma in certo senso è anche ambigua perché Gesù scacciato abbiamo visto i mercanti e così via terzo filo che arriva a nodo è quello dell'identità di Gesù colui che era stato riconosciuto da Pietro come il Cristo viene riconosciuto appunto da un centurione quindi da un pagano il figlio di Dio allora cerchiamo di comprendere questi tre nodi il primo evidentemente quello della morte appunto giunge qui al punto d'arrivo al punto culminante tutta quella preparazione quella condanna di cui si era visto quell'annuncio che Gesù stesso aveva dato ma vedete nel momento in cui Marco racconta che Gesù muore questo forte grande questo forte grido espirò ecco che in contemporanea unisce due scene la prima è quella del velo del tempio che si squarcia ora il tempio di Gerusalemme era costruito diciamo in modo tale che ci fosse sempre più una separazione progressiva nel cortile più ampio potevano entrare tutti anche i pagani nel secondo cortile solo gli ebrei nel terzo cortile solo i maschi poi solo i sacerdoti e nel santo dei santi solo il sommo sacerdote una volta all'anno ebbene questo saccello che era vuoto ai tempi di Gesù era stato distrutto da Nabucodonosor il tempio era chiuso da questa cortina appunto da questo velo una specie di tenda che era invalicabile solo il sommo sacerdote una volta all'anno il giorno degli onchi puri il giorno dell'espiazione dopo un mese passa di purificazione e di insomma di riti vari purificatori entrava per un attimo in quel luogo nel momento in cui Gesù muore il velo si scinde si squarcia questa è un'immagine per dire che ormai Dio è visibile a tutti non solo il sommo sacerdote può vedere ma tutto il mondo può vedere e dov'è Dio è lì è il corpo crocifisso di Gesù quel corpo crocifisso ormai mostra definitivamente il mistero di Dio e terzo filo l'identità chi dice la sua professione di fede lo dice un pagano un centurione Gesù scacciando appunto i mercanti dal tempio capitolo 11 diceva citando Isaia la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni e chi è il primo che professa la sua fede nel figlio di Dio è un centurione che vedendolo morire così dice quest'uomo davvero era figlio di Dio vedete il primo è un pagano ormai questa manifestazione di Dio non ha più limiti è per tutti gli uomini quel tempio che in certo senso non rispondeva alla sua chiamata alla sua vocazione al suo compito al suo compito di essere casa di preghiera per tutte le genti lo diventa nel corpo crocifisso di Gesù ormai la manifestazione chiara del mistero di Dio che è offerta a tutte le genti l'ultima pagina che prendiamo in considerazione è la pagina che chiude l'Evangelo cioè il capitolo 16 passato i versetti 1-8 passato il sabato Maria di Magdala Maria madre di Giacome Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo di buon mattino il primo giorno della settimana vennero al sepolcro a levare del sole dicevano tra loro chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro alzando lo sguardo osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare benché fosse fosse molto grande entrate nel sepolcro videro un giovane seduto sulla destra vestito di una veste bianca ed ebbero paura ma egli disse loro non abbiate paura voi cercate Gesù Nazareno il crocifisso è risorto non è qui ecco il luogo dove l'avevano posto mandate dite ai suoi discepoli a Pietro egli vi precede in Galilea là lo vedrete come vi ha detto esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro perché erano pieni di spavento e di stupore e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite con questo versetto si chiude Marco i versetti di 9 a 20 che sono canonici ispirati però non sono di Marco sono stati aggiunti dopo tant'è che nei codici migliori non ci sono ora questo finale è un finale che davvero ha fatto pensare e grattare il capo a molti perché è un finale difficile ma vediamo passo passo anzitutto vedete che Marco qui dopo che ha presentato sempre donne anonime finalmente fa i nomi ne ha già fatti alla croce ai piedi della croce diceva della presenza di Maria di Magdala Maria madre di Giacomo e così via queste stesse donne presenti alla croce sono presenti alla sepoltura quando Gesù viene messo nel sepolcro in realtà un sarcofago non un sepolcro cioè un luogo dove il corpo veniva messo in attesa che si consumasse la carne poi le ossa venivano radunate dentro un ossuario è una specie di vasca da bagno letteralmente dove veniva messo il cadavere che naturalmente sapete si gonfia eccetera eccetera va bene ora queste stesse donne vanno verso il sepolcro e qui Marco fa crescere una forte tensione perché perché la cosa come dire sorprendente è che queste mentre sono in cammino si chiedono chi toglierà la pietra ma voi capite che è come se io scendessi appunto insomma dalla casa verso la strada per prendere la macchina e dico eh ma non ho le chiavi e come fai se non hai le chiavi a guidare è impossibile devi andare a riprendere devi tornare su e prenderle cioè perché queste solo in cammino si interrogano sulla necessità che qualcuno rimuova la pietra conosciamo anche dall'archeologia questa usanza di sigillare le bocche erano proprio delle bocche di ingresso ai sepolcri con delle pietre tonde che correvano su un binario anche perché solitamente dentro si mettevano più defunti nel tempo e quindi si apriva e si chiudeva ma certamente queste pietre erano massicce anche proprio per evitare anzitutto agli animali di spostarle e poi anche agli animali a due zampe insomma quindi erano evidentemente di un certo peso e qui invece ecco la sorpresa nel momento in cui alzano lo sguardo vedono che la pietra è già stata rotolata e notate dice benché fosse molto grande quindi questa sorpresa che davvero rinnova e l'attesa viene spazzata via viene davvero trova questa sorpresa improvvisa fa sì che queste entrino e a questo punto Marco pesa le parole perché perché rileggo il versetto scrive videro un giovane seduto sulla destra vestito di una veste bianca ed ebbero paura ogni parola è pesata perché perché anzitutto vedono un giovane chi è il giovane è un angelo perché così venivano rappresentati gli angeli per esempio nel libro di Tobia Raffaele quello che va in media insieme a Tobi è appunto un giovane solo alla fine dice sono Raffaele nel libro dei Maccabèi la stessa cosa gli angeli si presentano così come dei giovani come degli adolescenti secondo questo giovane dice Marco è seduto allora più che seduto potremmo dire assiso questa è la posizione d'autorità perché perché il re è assiso sul trono il giudice è assiso sul suo scranno chi è seduto ha una posizione d'autorità infatti voi siete tutti seduti io sono l'unico in piedi più o meno quindi praticamente è la posizione d'autorità terzo è sulla destra qui la politica non c'entra niente la destra dice qualcosa di positivo ancora noi diciamo in italiano quando uno ha fatto un incidente che ha fatto un sinistro proprio perché c'è qualcosa di cattivo quindi se è seduto sulla destra vuol dire che ha una notizia buona e poi è vestito di una veste bianca se noi andiamo a vedere il capitolo 9 e cioè l'episodio della trasfigurazione lì si diceva che appunto il Gesù trasfigurato versetto 3 ha le vesti splendenti bianchissime il bianco è il colore di Dio è il colore della luce sicché questo giovane bianco vestito proviene dal cielo vedete ogni particolare ha un significato qual è la reazione delle donne è la reazione tipica di fronte alla manifestazione celeste alla manifestazione potremmo dire dal c'è divina hanno paura sentono la differenza e la distanza fra sé e quel personaggio che è stato inviato da Dio qual è la reazione dell'angelo anzitutto rassicura le donne non abbiate paura deve accorciare la distanza fra sé e questi personaggi femminili e poi definisce quello che le donne stanno facendo voi cercate Gesù il nazareno il crocifisso vedete per le donne Gesù è costui è colui che ha iniziato la sua vicenda a Nazareth la sua predicazione a Nazareth e l'ha terminata sulla croce ancora oggi noi cosa mettiamo sulle tombe data di nascita data di morte fra questi due estremi c'è la vita di una persona ebbene dire il nazareno crocifisso vuol dire colui che viene da Nazareth che ha iniziato la sua vicenda a Nazareth e l'ha terminata sulla croce voi lo cercate cioè voi come all'inizio vorreste come dire circondarlo della vostra pietà vorreste onorarlo attraverso la vostra pietà funebre voi vorreste quasi imprigionarlo dentro questo vostro vostro affetto però per voi Gesù è questo un trapassato uno che ormai è morto sulla croce ma ecco che Dio ha messo un inizio nuovo e cioè è stato risuscitato non è qui è stato risuscitato da Dio questo è un passivo questo luogo non è più interessante e da qui il compito andate a dire i discepoli a Pietro vi precede in Galilea vedete laddove il Vangelo è iniziato la Galilea in quel luogo i discepoli sono rimandati quasi a dire adesso che sapete che Gesù è risorto occorre tornare da capo rifare tutto l'itinerario da principio ma con quale differenza con la chiave in mano sapendo che il Signore è risorto e tuttavia di fronte a questo ordine esplicito dell'angelo le donne si sottraggono e si sottraggono potremmo dire attraverso tre gesti primo scappano fuggono via secondo hanno paura terzo sono pieni di timore terzo non dicono niente a nessuno ora va bene il fuggire questo luogo ormai non è più interessante va bene il timore siamo di fronte a qualcosa di così straordinario molto più straordinario dell'angelo visto in bianche vesti dentro il sepolcro perché questa è la rivelazione di Dio la resurrezione ma perché il silenzio si capisce che questo silenzio è stato un silenzio temporaneo non definitivo ma potremmo dire così questo silenzio dice fino in fondo la fatica del mondo umano rappresentato da queste donne di entrare nel mondo di Dio la fatica appunto di queste donne di comprendere la rivelazione di Dio e cioè non solo c'è una differenza a livello di narrazione all'ordine non corrisponde un'esecuzione certamente ma c'è anche una differenza teologica e cioè questo mistero supera di così di gran lunga ogni attesa ogni aspettativa ogni desiderio umano che l'uomo rimane in questo caso le donne rimangono davvero interdette eppure nonostante questa interdizione questo silenzio che sembra bloccare tutto ma andare a monte interamente questa notizia questa notizia arriva arriva fino in fondo e cioè la pigrizia umana la fatica dell'uomo ad assumere la rivelazione di Dio non blocca non argina la potenza di Dio che si è manifestata proprio nella morte e nella risurrezione ora Marco scrive il suo Vangelo molto probabilmente per una comunità romana che è attratta dalla vita evangelica ma che ha di fronte a sé la netta possibilità del martirio proprio perché siamo nel tempo della persecuzione di Nerone che iniziò nel 64 e certamente fu qualcosa di molto molto pesante e se qualcuno di voi ha letto il celebre romanzo Quo Vadis per quanto romanzato però ne ha una certa idea di che cosa fu quella persecuzione ora a gente così Marco scrive il suo Vangelo per gente così Marco scrive il suo Vangelo a ricordare che appunto la comunione con la morte di Gesù col martirio è già partecipazione alla sua risurrezione che con quella appunto morte non si dice la parola ultima dell'esistenza proprio perché il Cristo ha vinto la morte e quindi partecipando a quella stessa morte si partecipa già alla vittoria della risurrezione grazie grazie don Matteo abbiamo possibilità di fare qualche domanda partendo dall'osservazione l'unico testo che si conosca una donna taccia grazie 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 Grazie. Dopo queste lezioni certamente il Vangelo è più capito, si entra più in profondità e quindi senz'altro è una cosa che dà spirito, che dà vita. Però volevo fare una domanda, prendendo un po' la lettera dell'Archivesco. Al punto 2 dice che nel tempo che viviamo c'è il rischio di lasciare la contemplazione circoscritta a un tempo che sta fuori del tempo del vissuto quotidiano e in un luogo separato, come un recinto sacro, dagli ambienti della vita ordinaria. E questo continua a insediare i discepoli di Gesù. E dice appunto che è un rischio, perché lo dice, è un rischio che anch'io vorrei denunciare e contrastare. Lei ci ha sottolineato che le donne si sono messe in cammino pur sapendo che avrebbero avuto quel problema della pietra da rotolare. Allora le chiedo, perché si sono messe in cammino? Iniziamo da questa seconda. Qui c'è quel gioco tipico dei testi, e Marco usa molto questa modalità di scrittura, che lo possiamo definire così. Il gioco fra suspense e sorpresa. Cioè, i grandi autori costruiscono un'attesa che il lettore, naturalmente correndo avanti con la fantasia, cerca di dire andrà a finire così. Ma poi, evidentemente, frustrano quella scontata soluzione con una novità. L'esempio classico, forse l'ho già fatto, ma in ogni caso lo rifaccio, è la notte degli imbrogli di Manzoni. E' chiaro che lì dici, questi si stanno sposando, a un certo punto lei sta dicendo la formula. Però se ci pensi un attimo, dici, ma se si sposano è finito il libro. E allora chi per me si sposi sono. Ora, l'astuzia e la bravura, anche in questo caso di Manzoni, è proprio quella di far sì che l'attesa di quel finale prevedibile, si sposano, sia frustrata. Introducendo, appunto, il famoso tappeto che Dona Bondi getta su Lucia, cosicché il matrimonio non avviene. Ecco la sorpresa. La sorpresa rimette in gioco tutto. Lei scappa, prende la barca, va, eccetera, eccetera, arriva a Monza e addio, eccetera, eccetera. Va bene. Sappiamo, la stessa cosa è qui. L'attesa che si dice, allora, se queste sono andate e in cammino si chiedono chi ci sposterà la pietra, il lettore dice, e adesso come fanno? E inizia a ragionare su delle possibilità. Questo non fa altro che sottolineare la grande sorpresa. La pietra è già stata divelta, nonostante fosse grande. Cioè è un modo per introdurre, evidentemente, la figura dell'angelo. Quel giovane che ha divelto la pietra non è un ragazzino, è una figura angelica che ha questa forza, anche fisica, che si è manifestata così ed è dentro la tomba. Quindi, potremmo dire, l'attenzione è evidentemente un modo per destare interesse nel lettore, soprattutto in punti essenziali. Se ricordate, c'era un punto che funzionava, un altro punto che funzionava, molti, ma uno l'abbiamo visto. E cioè, la differenza fra l'annunzio del Battista, quando annuncia che dopo di me viene uno che è più forte di me, e al quale non sono degno di, piegandomi, insomma inginocchiandomi, di sciogliere i lacci dei sandali, e il Battesimo. Gesù si mette in fila con i peccatori. Lui si sottomette, appunto, a questo rito. Lì c'è la stessa dinamica. Uno dice, chissà chi arriva dopo un annuncio così, e invece Gesù, tranquillo, in fila con tutti, va a farsi battezzare da Giovanni. Certo, poi quella scena diventa rivelativa, la voce, eccetera. Però il meccanismo è il medesimo, fra appunto suspense e sorpresa. È un modo questo per rimarcare la novità assoluta di quello che si vuole dire. Come si fa a rimarcare la novità? Creando un'attesa. Se ci pensate, non so, le scene televisive, quando uno aspetta che avviene qualcosa e poi invece avviene un'altra cosa. È un modo per sottolineare l'importanza del momento, creando evidentemente attesa e anche una partecipazione emotiva naturalmente del lettore o di chi vede, perché poi invece viene risolto in un altro modo. Ora, il tema della paura è certamente molto interessante. Perché? Perché qui possiamo dire che si divide in due. Da una parte la paura e dall'altra parte il timore. La paura è l'atteggiamento di chi in fondo è bloccato. Il timore invece è l'atteggiamento di chi percepisce la rivelazione di Dio. E in questo senso sente la distanza, la differenza fra sé e il mistero. Ma insieme, come dire, viene condotto a scoprire come il Signore si rivela. E quindi è condotto ad aprirsi a questa novità. Allora, io volevo sciogliere un dubbio. Questo è il mio sangue dell'Alleanza, che è versato per molti, non dice per tutti. Perché? Hai un'altra ora a disposizione per rispondere? Grazie. Grazie. Allora, su questa questione, voi sapete, si è aperto qualche anno fa un grande dibattito a motivo delle cosiddette parole dell'istituzione nelle varie traduzioni che ci sono nelle diverse lingue. E cioè l'italiano, di fronte a quel promultis latino, traduce appunto per tutti. E allora da qui è la discussione, ma bisogna tradurre per molti, per tutti e così via. Tenete conto che questa non è una questione solo italiana, perché anche in altre lingue c'è lo stesso problema. Allora, qui diciamo che non solo, ma i testi sono quattro. Noi abbiamo il testo di Marco, abbiamo il testo di Matteo, di Luca e anche il testo della prima Corinzi 11. Quindi bisogna tenere conto di tutti e quattro per avere una visione appunto più attenta al dato neotestamentario e quindi anche capace di vedere la sua complessità. Diciamo pure così che qui anzitutto questo polloi, perché dicevi per pollonne, questo polloi, indubbiamente in italiano dobbiamo tradurlo molti. Il punto è che cosa indica questo molti? Diciamone una battuta. Questo molti indica l'idea di una moltitudine. cioè di un immenso numero di persone perché, diciamo, nella mentalità semitica l'idea è proprio quella che quando c'è un gruppo immenso di persone che non si possono contare, li si indicano così appunto la moltitudine, i molti. In italiano possiamo utilizzare appunto un termine equivalente, moltitudine ha un altro significato per noi. Di fatto mi pare che l'unico termine adatto sia esattamente tutti, che dice esattamente nella nostra lingua quello che il greco indica con un altro termine. E quindi credo che sia giusta la traduzione appunto della liturgia, perché se noi dicessimo per la moltitudine dovremmo ogni volta spiegare e dire attenzione che qui è una categoria semitica che dice appunto la totalità. Attenzione, tradurre non è semplice, perché la scelta della CEI, ma non solo, in generale tutte le lingue a mia conoscenza europee, la scelta è quella di una traduzione formale. Cioè sono due le possibilità di tradurre, traduzione formale e traduzione dinamica. La traduzione formale, nella traduzione formale, diciamo che, insomma, più o meno ad ogni parola del testo originale corrisponde una parola nel testo d'arrivo. La traduzione dinamica, invece, cerca di rendere il significato etimologico oppure il campo semantico di una parola attraverso una perifrasi. Ma in questo modo capite che il testo s'allunga. Il punto è che non sempre la corrispondenza equivale appunto a rendere l'idea di quello che la parola vuol dire. Faccio due esempi. Il primo, nel Vangelo di oggi, in rito romano, è Marco 7, sapete che Gesù dice dal cuore dell'uomo che vengono e fa un elenco, appunto, omicidi, eccetera. All'un certo punto si dice invidia. Ma se voi andate a vedere il testo greco, c'è scritto oftalmos poneros, che significa occhio cattivo. Ma voi capite che se io traduco occhio cattivo, uno pensa al malocchio, che è tutt'altra cosa in italiano. Ha senso parlare in italiano? Ha senso questa espressione occhio cattivo? No. Dovevo per forza renderla attraverso un'altra parola. ecco la parola invidia. Studiando ci si rende conto che c'è una certa corrispondenza. In realtà il greco dice di più. Ma qui entra in una questione complicata. Allora capite che la traduzione sceglie. Secondo esempio. Nel Benedictus, quindi nella preghiera che si dice tutte le mattine a Lodi, si dice, benedetto è il Signore Dio di Israele perché ha suscitato una salvezza potente. Ma il testo greco dice cora soteria, cioè un corno di salvezza. Infatti il latino traduce corno a salutis. Ma voi capite che se io in Chiesa dico che il Signore ha suscitato un corno di salvezza, uno mi guarda e dice, non sta dicendo questo qui. Perché? Perché per noi corno ha tutt'altro senso, come voi mi intendete benissimo. E allora si dice una salvezza forte, potente, prodigiosa. È un'interpretazione. Certamente adatta, però, attenzione che quella immagina qualcosa di più della salvezza potente. Vedete, tradurre non è facile. Ora, qual è la soluzione? Primo, leggere il testo in greco, così non capisce niente di nessuno e si andrà a capo. Oppure, appunto, chi studia un po' cerca di capire queste finezze, cerca di rendere in qualche modo, spiegandole oppure argomentandole e così via. Ma gli esempi si possono moltiplicare davvero a decine, anzi direi a centinaia. Però, attenzione, questo riguarda ogni lingua. Ogni lingua. Vi faccio un esempio, ancora. Sapete che in questi giorni si è detto che il Papa ha detto di sì alla beatificazione di quei martiri in Algeria, che sono quei sette trappisti monaci che sono stati uccisi. E quel film che hanno fatto su di loro, splendido a mio avviso, è stato tradotto in italiano coi piedi. Perché? In italiano il titolo era questo. Uomini di Dio. In francese era Des hommes et des dieux. Plurale. Che si traduce Degli uomini e del loro Dio. Del loro Dio. Perché lì è tutto giocato su questo. Il Dio cristiano è chiaramente il Dio dell'Islam. Ma se uno questa finezza non la coglie nella lingua, appiattisce. Capite? Allora, è chiaro che in questo caso era facile, bastava tradurre così, era fatta. E invece hanno uomini di Dio che è proprio un'altra cosa. Va bene, è un film. In certo senso, capite chi se ne importa. Il testo del Nuovo Testamento è un po' più complicata la questione. Forse è il valore più grande. Però per dirvi come queste difficoltà si trovano. Bene, diamo la parola al parroco per il saluto finale. Io ringrazio innanzitutto Don Matteo per quello che ci ha consegnato anche quest'anno. Insieme con lui cercheremo di ipotizzare un percorso che non termini quest'anno, ma prosegua nel tempo, in maniera il più possibile strutturata. Così che ci sia una sorgente a cui attingere in maniera anche programmata. Sappiamo che la prossima tappa, la prossima tappa. E questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che ci si rende conto che molte volte, ne parlavamo anche questa sera, probabilmente si pensa di conoscere già, si dà per scontato. Sai, il Vangelo, tutte le domeniche, tutti i giorni, so già come va a finire. Ce l'ha detto lui stasera, ma lo sapevamo già anche noi, che finiva così, o no? A tal proposito avevo una domanda. Ma perché era necessario che quel centurione dicesse veramente questo uomo era figlio di Dio? C'è un motivo? Era necessario, non era necessario? È necessario dire la propria fede? È necessario dire quello che si è visto, quello che si è sperimentato, che si è toccato con mano quando vedi quell'uomo sulla croce? Non lo so, forse potrebbe essere un altro dei percorsi che abbiamo di fronte. Però di fatto mi rendo conto sempre di più che appena spalanchi, appena appena una porta, la socchiudi, poi ti si aprono orizzonti davvero nuovi, davvero grandi. Val la pena di contemplare anche quello che non avevi previsto. Val la pena di percorrere anche quelle strade che non avevi considerato. Per questo sono grato a queste due esperienze che abbiamo appena appena iniziato a compiere. Perché qualcuno deve poter dire quest'uomo era davvero figlio di Dio. E lo possiamo dire tutti. lo possiamo dire non per sentito dire, ma perché anche noi in un qualche modo eravamo lì di fronte. vi racconto una piccolissima cosa. È morta una signora che conoscevo, una persona veramente fine, tutto bello. Da poi la cancelliamo questa. un'ischemia e negli ultimi sei mesi di vita quando vedeva il crocifisso diceva ma perché quello lì c'ha le braccia spalancate? diceva con il minimo tra il rosario al giorno. Però la domanda che le è rimasta era perché c'ha le braccia spalancate? Ecco, forse la domanda e il tentativo di risposta che ciascuno può produrre passano anche attraverso quella parola scritta che contiene la parola di Dio. Ogni volta che ci raggiunge ci dimostra che quella parola si è fatta carne. Ogni volta che ci incontra ci chiede anche una adesione di fede non prima di aver interpellato la nostra libertà la nostra intelligenza le nostre domande. Ecco, il mio augurio è che davvero non ci fermiamo di fronte a una parola estremamente dinamica estremamente preziosa e bella ma ne facciamo un tesoro da condividere insieme. Per questo ti ringrazio davvero di cuore perché ci hai permesso anche quest'anno di fare questo pezzo di strada insieme con te. Grazie di cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.